tutti ragazzi altre notizie ma certo è normale ragazzi ovviamente un video al giorno toglie il medico di torno lo so perciò sono si sono aggiunti altre nuove cose spero che sto dicendo la verità allora come possiamo vedere c'è due nuovi spray gratis allora questo è il primo riscattate questo codice e otterrete questo spray nella foto questo è il codice potete anche mettere in pausa e poi dopo e ve lo copiate un attimo pure ve lo copiate eccetera tranquilli io lo lascerò per qualche secondo va bene ed è fatto spero di sì questo è il secondo dove darà questo quest'altro che è molto simile a quello di prima vedete sempre il codice ovviamente ditemi quando anche perché io forse forse riuscirò a copiare allora questo lo copio ora copia e quindi vi faccio già vedere il sito nella descrizione e codici non lo so se riesco a farli poi vediamo poi nuova mappa creativa a tema australia e nuova ziranda creata dal team di fortnite anz codice mappa copiate che cazzo video di ok la stagione 8 è completa all'87 per cento 9 giorni rimanenti vabbè da quando tempo non uscivano gli oggetti più rari per esempio 7 stagioni mutamento senza la mimetica 364 giorni 7 in cubo del fulminaio 256 giorni mister mais questo qui 154 giorni nella notte il 701 è stato denominato shield probabilmente sarà una collaborazione con l'occhio di falco visto che la serie appena uscita e lui fa parte dello shield vabbè questo già già l'hanno creato veglia sulla foresta e guida il suo spirito in continua evoluzione attraverso le stagioni ottieni il nuovo set di stagioni in cambiamento nel negozio oggetti questo è il negozio oggetti se ve lo potete vedere io vi zoom anche un po più di qua gli oggetti di costbuster vabbè naruto con con tutti i suoi stili i suoi deltaplani eccetera la schermata che sta ancora zero vi back però tra poco la toglieranno e niente e basta poi questo è sempre un altro negozio vabbè le selezioni del negozio eccola qua mappa capitolo 3 l'utente fn assist è riuscito a unire tutte le immagini nella scritta la fine nelle scritte la fine di tutte le lingue disponibili per colmare gli spazi tra le lettere per creare un'immagine del terreno e separarla dal testo del teaser che ne dite potrebbe darsi ma noi abbiamo anche alcune vabbè a causa di un problema hanno disattivato praticamente le shadow stone quelle lì quelle lì da season 6 che sono state aggiunte anche in questa stagione poi la missione usa una petra bomba quindi recupera il contenitore spiritico è stata modificata in usa un flopper cubico quindi recupera il contenitore spiriti spiriti vabbè e poi capitolo 3 questi oggetti sono molto probabilmente dei vecchi modelli utilizzati però per il capitolo 3 chissà se verranno usati se sono stati cambiati ma questa immagine potrebbe darci un'idea sulla nuova mappa del capitolo 3 anche questo è un modello non c'è non è nulla di confermato però vabbè quella queste cose invece sono quelle lì che vi ho detto ieri va bene comunque state tranquilli ogni cosa che metteranno tipo se metteranno 10 post io vi leggerò tutti i 10 i post e vi farò vedere i cambiamenti che succedono ok va bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto anche se è durato solo 5 minuti ehm e niente vi auguro una buona giornata mannaccia mio ah adesso si è perso ancora in video e niente no che cazzo ho fatto ah cos'è l'iphone oddio mi sono cazzo sotto ma posso metterlo come si mettono ah eccolo ok no non è niente di che ok va bene ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao